L'anticorruzione è un obiettivo da raggiungere tra la sola legge e quindi è obbligatorio fare. Diciamo che per la prima volta all'interno del piano anticorruzione della regione Liguria è stato inserito il fatto che il raggiungimento dell'obiettivo dell'anticorruzione in ciascuno e singolo settore della regione darà punteggio per il raggiungimento degli obiettivi del dirigente competente di quel settore. Questo per dare concretezza all'anticorruzione che non deve rimanere semplicemente sulla carta ma dovrà essere raggiunto quello che l'Aggiunta ha deciso oggi nei risultati dei dirigenti.